partita l'ultima finale torniamo a metri a punti grazie a tutti ragazzi fermi la pioggia il sole e adesso abbiamo dovuto attenzione a vedere tutti ancora il partito è presto la piccina 295 296 295 296 296 291 291 305 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 307 305 306 306 307 che si sono migliormente avvantaggiati tra i 136,79 e i 136,79 grazie ora controllo ora controllo è che hai un'altra vittoria risposta e la direi puntare alla vittoria in questo torte quando siamo ai punti di meno 8 punti di meno 8 punti di meno 8 7,9,7 in questo momento controllo la nuova vittoria mancano 7,9 6,85,25 1,2,5,25 non fa la partida vengale 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 per il tuo senso di di Serae ora non è tanto che è una scelta di questa agenda quando siamo ancora a entrare avanti ma che sono altri a entrare avanti punti di meno 6 25,75 la Telfinca la Telfinca il Noso di Anzae e la Telfinca ti mando fa la capital il non fatto che non fa la capire la Telfinca non fatto che non fa la capire la Telfinca il non è contrattata questa non mi fa la capire è tornata davanti Martina Begolato che adesso è a 6 15 è tornata davanti Martina Pugli di Martina Begolato 15 4-1 15 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 16 16 16 16 19 19 20 21 21 22 e e e e e nel palio di qualificazione siamo già ai punti di meno di guerra 550, 550, 550, 540 è salita proprio su un ghiaccio, loco che è buono sono fatto quello di ritorno, sono fatto quello di ritorno sono fatto quello di maldi quando stiamo nella campagna, l'ultima parola per l'ultimo è stato fantastico, è stato fantastico 2,5, 6,6, 7,6 andiamo qua, andiamo e dovrebbe essere 6,6, 7,6, 7,6 6,6, 7,6 6,6, 7,6 8,7, 6,7, 3,7, 7,8, 7,8, 8,8, 8, 9,9, 9,9, 9,9, 10,8, 9,9, 10,9, 10,9, 10,9, 10,1, 10,8, 10,9, 10,1, 10,11, 22,10.